Non so se siano il caldo o le vacanze, ma nelle ultime settimane mi sono venute in mente un sacco di idee fichissime che voglio realizzare solo che quando ho dato un'occhiata al mio calendario mi sono resa conto che non c'era un minuscolo buco libero per riuscire ad inserircele dentro e onestamente per una cui piace definirsi un piccolo mostro di produttività, la cosa è risultata abbastanza indigesta Mentre mi sfogavo con un amico, sai uno di quegli amici a cui puoi dire che in realtà non sei produttiva, che in realtà perdi un sacco di tempo che non sai come girarti, che hai mille cose da fare e non sai come farle tutte, uno di quegli amici a cui puoi dire tutto lui mi chiede, Ceci ma scusa dimmi che cosa che ti prende più tempo ogni giorno della tua settimana, partiamo da lì Subito io rispondo senza neanche pensarci un secondo, sicuro tutte le chiamate Skype che devo fare, ho proprio detto così, che devo fare E lui mi dice, quante ore a settimana trascorri su Skype? Io gli rispondo, beh non ci ho mai pensato, non le ho mai quantificate, sono tutte in calendario E mi dice, beh quantifichiamole, scriviamole in nero su bianco, il mio amico coach E allora comincio a scrivere in nero su bianco tutte le ore che trascorro su Skype E mi sono resa conto, con mia grande sorpresa, che stavo trascorrendo su Skype almeno 5 ore a settimana per chiamate fisse Più tutte le chiamate e i meeting che venivano organizzati non previsti dal calendario Per un totale che si poteva girare anche intorno alle 8 ore settimanali Tagliando la testa al toro, più o meno 25 ore al mese mi venivano risucchiate da chiamate Skype Che a mio avviso erano assolutamente obbligatorie Fino a quando il mio amico non mi dice, beh elimina le tutte Io lo guardo e gli dico, ma sei matto, è ovvio che non fai il mio lavoro, altrimenti non mi diresti una cosa del genere Come faccio ad eliminare le chiamate Skype? Come può un team che lavora in remoto non coordinarsi con chiamate Skype? È impossibile, se elimino le chiamate Skype va tutto a rotoli Lui mi sorride mantenendo la calma e mi dice, ma scusa provo per una settimana In questo modo riesci a capire subito se qualcosa va a rotoli e se la situazione va fuori controllo puoi sempre tornare sui tuoi passi Esausta dalle mille cose da fare e soprattutto determinata a trovare un pochino più di tempo per i miei progetti più creativi Ho deciso di provare, non le ho tolte tutte le mie chiamate ma sono passata da 5 ore settimanali a 2 ore settimanali Un'ora dedicata al mio team italiano e un'ora dedicata al mio team all'estero E vuoi sapere cosa è successo? Niente, non è successo niente A parte il fatto che la mia agenda si è liberata notevolmente e di riflesso anche l'agenda del mio team coinvolto in ogni singola chiamata Skype Non solo, ma le singole chiamate che sono rimaste sono diventate molto più focalizzate e molto più produttive Ho sempre preso in giro chi lavora in ufficio e tende a trascorrere ore e ore in noiosissimi meeting e riunioni controproducenti E non mi ero mai resa conto che mutatis mutandis ero scivolata nella stessa identica buccia di banana Ora prova ad uscire dal contesto lavorativo che magari non ti tocca direttamente o magari si E pensa a quante volte restiamo ancorati a vecchie abitudini e vecchi schemi Soltanto perché abbiamo sempre fatto così, magari qualcuno ci ha detto che andava fatto così E non abbiamo mai messo in discussione la cosa Convinti che fosse una regola imprescindibile Fino a quando qualcuno non ci leva i prosciuti dagli occhi E noi siamo pronti ad aprirli E allora pronto a togliergli questi prosciuti dagli occhi? Condividi nei commenti qui sotto una cosa Anche piccola Che potresti ridurre nella tua agenda Fino magari un giorno a rimuoverlo del tutto Magari sono proprio meeting, riunioni, chiamate Che si ripetono settimanalmente da anni Senza che mai nessuno abbia chiesto Sono davvero necessarie? Qualunque cosa sia condividila nei commenti qui sotto Perché come sempre ti ricordo che non c'è modo migliore di crescere che farlo insieme Mi sono impapperata Perché come sempre ti ricordo che non c'è modo migliore di crescere che farlo insieme Questa era buona Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale E di condividerlo con tutti i tuoi amici E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita Non aspettare un secondo di più E vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it Per accedere ad ulteriori strumenti pratici Che condivido solo via mail Fino al prossimo episodio Un grandissimo abbraccio di luce Mua